Noi abbiamo continuato a lavorare convinti che c'era la mafia e di fatti i risultati si sono visti. Del resto noi sappiamo che addirittura negli anni 60 il primo collaboratore giustizia Tommaso Buscetto ci aveva indicato un indirizzo a Milano, Via Larga 13, dove si riunivano e facevano i migliori affari di import e export di droga e quant'altro. Non poteva essere che avevano lasciato questo mercato così ricco dove potevano bene nascondersi e quindi è evidente che nascondere la polvere sotto il tappeto non funziona perché poi alla fine c'è una montagna sotto. Allora abbiamo continuato e finalmente si è riusciti a dimostrare con documenti, con filmati, con intercettazioni la realtà. Le mafie funzionano come un'impresa multinazionale e multitraffico, nel senso cosa ti serve? Beh io te lo do, un'impresa di servizi e questa è la nuova dimensione della mafia e della mafia che fa affari. La mafia si estende e si cerca di infiltrarsi, allora bisogna cercare di combatterla con tutte le forze e con i possibili strumenti che noi abbiamo. Abbiamo una buona legislazione, la vorremmo ancora più perfetta attraverso tutta una serie di provvedimenti e strumenti legislativi come l'autoriciclaggio, il falso in bilancio, le norme sulla prescrizione, il voto di scambio, chi più ne ha più ne metta abbiamo sempre la possibilità di migliorare le cose che abbiamo e soprattutto di mantenere quelle che ci sono già. Grazie.